rispetto a questo progetto? Beh, insomma, io avevo già da tempo cominciato a ragionare sulla necessità di mettere in campo un soggetto politico la casa della sinistra del futuro, non un luogo ideologico, un luogo dove le culture politiche possono incrociarsi. Sappiamo che gli autori del disastro di ieri non sono più interlocutori per noi. Credo che Fabrizio Barca è una personalità di primo piano, è una risorsa per il centro-sinistra. Ce n'è dentro, ce n'è molti fuori, uomini e donne. Dobbiamo liberarci da chi ha portato i congressi del Partito Comunista Italiano e della democrazia cristiana, in più il congresso del Partito Democratico, tutti insieme, tutte le storie neurotiche del Paese, tutte le rendicontazioni delle faide interne dentro le urne di ieri. Chi ci ha fatto questo regalo deve proprio togliersi di mezzo. Volevo chiedere...